La presenza del Ministro sarà anche l'occasione per acquisire dal di Castero competente elementi di riflessione sulla normativa che regola l'accessione del rifiuto in the West Il tema è stato oggetto di un'indagine inoscitiva che ha impegnato la Commissione negli ultimi tre mesi e che viene a conclusione oggi con le considerazioni che il Ministro Costa riterrà di fare nel corso del suo intervento Ricordo che come di consueto dopo l'intervento introduttivo del Ministro sarà concessa la parola ad un rappresentante per gruppo e successivamente agli altri deputati che ne facciano richiesta compatibilmente con i tempi disponibili per la replica del Ministro Voglio ringraziare il Ministro per la sua partecipazione nei lavori della Commissione, gli cedo la parola per lo svolgimento della relazione. Prego Grazie Presidente, grazie Signori Deputati Grazie Presidente, grazie a tutti 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 Grazie a tutti